Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Sul nostro territorio avremo ancora stabilità diffusa nella giornata odierna, ma alle porte una possente saccatura nord-atlantica che nelle prossime ore giungerà sull'Europa occidentale e sul nord Italia, apportando le prime precipitazioni ed un calo delle temperature. Allo stesso tempo si attiveranno sul lato orientale venti meridionali con condizioni meteo che gradualmente peggioreranno anche al sud. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 25 aprile. Mattinata soleggiata su buona parte del territorio, stabilità che proseguirà anche nel resto della giornata. Qualche nube potrà affacciarsi sulle aree interne di Puglia e Basilicata, ma senza fenomeni. Durante la sera torna il sereno ovunque. Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi. Venti inizialmente deboli di Scirocco tenderanno a rinforzarsi entrosera su tutta la Puglia centro-meridionale. Mari, mossolo Ionio, poco mossolo Adriatico. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono, aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi vi proponiamo l'incantevole panorama verdeggiante della gravina di Matera attorniata da nubi irregolari. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.